Tra gli addempimenti che la provincia, quale ente gestore della riserva statale, ha nel decreto istitutivo, è quello della ricerca degli studi di approfondimento di questo territorio per conoscere al meglio le sue valenze ambientali e archeologiche. Si è voluto sistematizzare le ricerche, alcune fin qui svolte, pubblicando una collana, i quaderni del furlo. L'intendimento è quello di raccogliere studi e ricerche dei tre grandi macro settori di ricerca e conoscenza di questo luogo. L'idea proprio di avere dei quaderni e dei tomi che affrontano quel tematismo in maniera sistematizzata e organica. Quindi è proprio un progetto editoriale, quindi tutti gli anni, come quest'anno già del 2014, verrà creato un cofanetto, per chi lo vorrà, di questi primi tre volumi che poi nel corso degli anni potranno essere arricchiti ognuno per il proprio settore. Credo che offrire questo strumento possa contribuire in maniera significativa alla ricerca, alla cultura e alla conoscenza di questo luogo. Sono stati pubblicati i primi tre volumi che per la loro importanza di ricerca sono veramente un degno inizio di questa collana e in particolare mi soffermo con il primo volume di questa collana che è la via Flaminia alla gola del furlo del professor Luni che purtroppo è scomparso recentemente, che racchiude praticamente 40 anni di storia di ricerca del professor Luni lungo la via Flaminia e questo affascinante approfondimento sulla gola del furlo. Quindi è praticamente il testamento, potremmo dire, del professore che verrà presentata l'8 di novembre a Fossombrone nell'ambito dell'assegnazione del premio Forum Semproni. Le altri libri, per quanto riguarda la parte geologica e geomorfologica, l'Atlante delle opere di ingegneria naturalistica e la raccolta di tutti i corsi fatti negli anni passati nella riserva da illustri ingegneri, geologi e ambientalisti sulle modalità di recupero e di salvaguardia dei luoghi con l'ingegneria naturalistica. L'altro, sotto l'aspetto della collana faunistica e della flora, quindi dell'ambiente totale, è la ricerca sulla presenza del lupo nella provincia di Pesaro Urbino. Con l'avvio di questa collana, la provincia vuol dare uno strumento per approfondire la conoscenza delle ricerche di questo luogo e per capirne sempre di più rispetto a questo fascino che ci trasmette tutte le volte che lo attraversiamo. La presentazione di questi volumi, come dicevo, il primo volume sarà l'8 di novembre, poi per quanto riguarda gli altri volumi stiamo contattando gli autori e nell'arco di un mese, nel mese di novembre fino alla metà di dicembre, realizzeremo degli eventi particolari dove con degli esperti di ingegneria naturalistica l'uno e di ambientalisti e di ricercatori del lupo faremo degli eventi particolari proprio per presentare e lanciare anche l'idea di prossimi ricerche e studi. Dall'8 di novembre sarà naturalmente disponibile dopo la presentazione quella del professor Mario Luni e poi di volta in volta nell'ambito di questi eventi di presentazione li metteremo a disposizione di tutti. Faccio rilevare che proprio per una scelta precisa tutti i volumi sono a pagamento di bassissimo costo proprio nel rispetto dell'estensore ma anche di chi l'ha stampato e l'ha prodotto. Il prezzo naturalmente è commisurato al costo reale della stampa e quindi libri di questo tenore qui non corrispondono al prezzo che è posto in copertina ma tiene conto del costo e di un piccolo recupero da parte dell'ente per i costi generali.